ciao a tutti torno nella consueto a veste di youtuber per caso perché proprio in effetti le mie al me me ste come si vuol dire però volevo parlare del mese di maggio nel motosport quindi un mese tragico un po per tutti perché partendo dal fatidico primo maggio senza dimenticare il 30 di aprile la morte di roland ratzenberger maggio veramente è un mese difficile per il motosport storicamente perché la scomparsa di due piloti di imola poi dell'8 maggio 1982 di gil villeneuve poi a metà mese c'è elio de angelis insomma senza poi dimenticare che non è legato chiaramente poi alla alle gare a quello che succede poi è successo in pista ma anche a un fatto poi diciamo così fisiologico la scomparsa di nikki lauda ad un'età insomma che non è quella in cui si corre ma chiaramente un'età in cui lui avrebbe potuto tranquillamente proseguire se non fosse stato colpito da quelli che sono un po le conseguenze della sua trappianto di polmone e poi ovviamente alla base di tutto c'era l'incidente invece della north life del 1976 quel primo agosto in cui il campionissimo austriaco tre volte ridato sfiorò veramente la la morte nell'incidente con la ferrari quindi un mese in cui veramente maggio il motosport non vive di ben ricordi ma purtroppo di di chiamiamole così tragedie legate alla scomparsa di grandi protagonisti quindi senna non dimentichiamo come dicevamo prima ratzenberger anche se di aprile ma è comunque legato a maggio al primo maggio al weekend di imola gilville 9 il 8 di maggio elio de angelis e poi chiaramente nikki lauda ovviamente avrà dimenticato qualcuno però in ogni caso è un mese in cui lo sport dei motori piange tantissimi personaggi rappresentativi però è anche un mese in cui quest'anno cade il cinquantesimo anniversario di una vittoria storica a monaco visto che si parla anche di monaco il mese di maggio e monaco monaco quindi ayrton senna sempre le sue grandi vittorie le vittorie di michael schumacher quelle di graham hill quindi i primatori con le cinque sei vittorie a testa del principato i due i due campionissimi del passato più michael schumacher che ormai sappiamo tutti purtroppo in che condizioni si trova sta cercando di recuperare un infortunio veramente grave sugli sci quando si era già ritirato dalle dalle corse e mentre 50 anni fa nel 1970 il 10 maggio sempre domenica a monaco si svolse un gran premio che rimane rimane storico perché è la vittoria di joachendrind anche lui scomparso proprio 50 anni fa a monza nella sabbia della parabolica ma poi avremo modo di parlarne nei giorni dell'anniversario più profonditamente una vittoria appunto la sua rocambolesca perché avvenne con una lotus 49c quindi una macchina vecchia ormai di tre anni su un circuito dove le doti delle monoposto le prestazioni delle monoposto anche un pochino più ag come la sua potevano essere risaltate dalle doti del pilota dalle condigenze della giornata e chiaramente da una serie di circostanze che si sono create in quella domenica un successo che avvenne all'ultima curva perché jack brava mi era in testa ma in seguito da rind l'esperto black jack come era soprano nominato l'australiano perse il controllo alla vecchia curva del gasometro che oggi non c'è più e finì contro le barriere chiaramente senza danni tanto che riuscì a ripartire finendo secondo ma lo fece in modo proprio ecco rocambolesco quindi all'ultima curva grazie alla pressione di rind che recuperò secondi su secondi perché aveva un distacco di oltre 15 secondi quando mancavano non tantissimi giri il tedesco con licenza austriaca arrivò a abbattere proprio il black jack addirittura ad arrivo perché sbagliò un doppiaggio il pilota australiano della brabham il titolare quindi della brabham che correva con le sue macchine sbagliò un doppiaggio all'ultima curva e rind ne approfittò passando andando a vincere tanto che il direttore di gara non si accorse nemmeno che brabham lo stava aspettando non lo vedeva arrivare non abbassò neanche la bandiera a scacchi dopo il passaggio della lotus numero 3 di jokend rind quindi un successo storico per lui per la lotus quindi ottenuto poi con un fantastico tempo all'ultimo giro addirittura diversi decimi sotto la pole position con gomme ormai finite quindi qualcosa di straordinario per un pilota effettivamente che era straordinario non solo ricordato perché ci lasciò in maniera proprio drammatica a monza a soli 28 anni divenendo l'unico campione del mondo alla memoria in formula 1 questo è un po il sunto di quella domenica particolare ma appunto va oltre la la sua la sua ricordo va oltre il mondiale postumo con la lotus ma proprio perché era un pilota molto molto capace velocissima era paragonato a jim clark aveva probabilmente più foga più irruenza dello scozzese sicuramente meno calibrato ma stava maturando nel tempo e avrebbe raggiunto anche lui una condizione particolare di equilibrio che poi purtroppo non arrivò mai a conquistare vinse quella gara monaco in maniera appunto particolarissima roccambolesca unica diventando chiaramente la sua una prestazione che rimane oggi negli annali all'ultima all'ultimo respiro con una vettura che non sicuramente non prometteva partiva ottavo non prometteva di portarlo al successo quindi da lì poi iniziò che la sua cavalcata verso quella che fu l'estate del 1970 e la calda estate del 1970 con altre poi quattro vittorie tutte in fila una quell'altra un poker incredibile e lo portò chiaramente poi a monza a quello che fu il tragico epilogo della sua vita e della sua carriera quindi un austriaco per un altro austriaco niki lauda ricordato nei giorni scorsi proprio per la sua scomparsa avvenuta il 20 maggio oggi siamo ormai siamo al 23 però in effetti quindi una concatenazione di eventi particolari che fa sempre parlare di motosport quindi direi che poi approfondiremo in altri video la figura di rint perché sicuramente personalmente mi è piaciuta l'ho sempre studiata approfonditamente quindi l'ho cercata di analizzare al meglio e vi saluto semplicemente con una rivederci alla prossimo video e anche perché poi ricordando tutti questi campioni tutti questi eventi il mese di maggio ci fa un po ecco non solo piangere non solo versare lacrime oppure pensare solo alle cose negative ma anche a quelle positive appunto come la vittoria di rinda monaco e tante altre vittorie chiaramente quelle di senna quelle di gramil e quelle di michael schumacher che hanno lasciato un segno indelibile in quel gran premio che quest'anno non si è corso e speriamo l'anno prossimo si possa disputare al meglio e che ci possa riservare grandi eventi a presto un saluto a tutti un abbraccio ciao